Un milione di euro per mitigare le criticità della strada provinciale 24 a San Giorgio di Susa e quanto potrà investire la città metropolitana nei prossimi mesi per la messa in sicurezza della provinciale del Mon Ginevro nel tratto che va da Villar Focchiardo al confine fra i comuni di San Giorgio di Susa e Bussoleno. Una nuova tappa per migliorare la situazione della provinciale 24 in uno dei tratti più trafficati che oltre a registrare un intenso traffico leggero e di mezzi pesanti diretti verso la Francia spesso si configura anche come alternativa all'A32 l'autostrada interessata da numerosi cantieri. Questa mattina siamo venuti a San Giorgio negli uffici del municipio per presentare all'amministrazione comunale una prima ipotesi progettuale che riguarda la messa in sicurezza della strada provinciale 24 in località Malpasso. Purtroppo in quel tratto di strada durante gli ultimi anni sono occorsi diversi incidenti anche mortali ed è nostra intenzione procedere con una messa in sicurezza di quel tratto stradale per evitare nuovamente dei lutti e degli incidenti molto seri. Abbiamo trovato grazie alla disponibilità della regione Piemonte attraverso i canoni idrici la disponibilità economica di un milione di euro per incominciare a realizzare alcune opere di miglioramento della viabilità e di messa in sicurezza di quell'asse stradale. Sono circa due chilometri, pensiamo di allargare un pochettino il fondo stradale di realizzare delle intersezioni con la viabilità comunale che siano più sicure e migliori di quelle che ci sono oggi e di mettere in campo una serie di attività che riguardano il controllo della viabilità in quel tratto di provinciale. Tutto questo per continuare a investire sul territorio, continuare a investire anche nei paesi più piccoli della nostra città metropolitana che però hanno delle esigenze che non possono essere lasciate indietro soprattutto quando si parla di sicurezza e soprattutto quando si tratta di miglioramento della viabilità. Grazie.